Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Mi trovo a Fregento. Oggi è 10 ottobre, giornata della vendemmia. Stanno al lavoro con Marisa, con la sua mamma e Domenico là dietro, tutto nascosto, non si vede nemmeno la faccia. Ora si è fatto vedere. Bravo Domenico. Sono contento di stare qui nella bigna di Franco Cipriano. Franco Cipriano è qua con il suo suocero. Sì. Stanno raccogliendo l'uva. Comunque si vede che è giornata della vendemmia. Franco vuoi dire qualcosa? Buongiorno a tutti. Oggi inizio la vendemmia di mia proprietà. Questo è il tipo di uva, il merlot. È molto zucchero. Quindi siamo alla fase principale della raccolta. Questa è un'esperienza bellissima. Un'esperienza bellissima e che resterà sempre nel mio cuore. Grazie a questo mio amico Franco Cipriano. E anche al suo suocero Francesco Ciullo. Bene, vi lascio lavorare e buon lavoro. Grazie a te. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Buona raccolta dell'uva. Buon lavoro. Adesso andiamo in cantina. Adesso si va in cantina. Grazie. Siamo nella cantina di Franco Cipriano, uso privato, stiamo passando alla fase della macinatura dell'uva. Iniziamo la prima cassetta della macinatura, sempre ringraziando Fafridelis che ci è onora della sua presenza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.